Un roster tale per cui è possibile che possano, non penso all'inizio, ma nel corso della partita fare minuti a qualche altro giocatore. Spero che sia così, che gli impegneremo a tal punto da costringerli a giocare a pallavolo seriamente. Non è una delle squadre più forti del campionato, probabilmente è una delle squadre più forti al mondo. Io mi accontenterei di portare lì anche solo un punto. La cosa più importante credo sia giocare bene, fare il nostro gioco, impegnarci al massimo e venire via soddisfatti di questa partita. Cosa che non è avvenuta negli altri tre precedenti incontri con le top del campionato, nel senso che siamo sempre venuti via con un sapore amaro di qualcosa che si poteva fare che poi non si è concretizzato. Vedi, i set conquistati con Trento, con Modena e quello che è successo poi a Perugia, sostanzialmente. Sono state tre partite dove siamo venuti via così non completamente soddisfatti. L'augurio che mi faccio di oggi è proprio che veniamo via, a prescindere dal risultato, con la soddisfazione di aver dato il massimo. Grazie a tutti! Grazie.